Mi chiamo Sabrina e sono di Siracusa. È una cartomante, si è presa tutto ciò che avevo. E adesso sono sull'astrico. E questa è la mia storia. A come in giam. Al lavoro conosco questo ragazzo, molto più giovane di me, quasi 15 anni. Un giorno mi invita a prendere un aperitivo. Io sinceramente non lo sopportavo, ma per collaborare lavorativamente pensai che fosse la cosa giusta per cercare di andare un po' più d'accordo. E invece purtroppo piano piano finì con innamorarmi di questa persona. Lui aveva una compagna e un figlio. Abbiamo vissuto sei mesi bellissimi. Dopodiché iniziò, non so perché, come a percepire se avessi una fattura. Così un giorno mentre ero a lavoro mi arrivò un'email di questa cartomante che io non conoscevo, che non avevo mai visto e che probabilmente non sapeva niente della mia vita. Tant'è che incominciò a dirmi come era la mia vita, come sarebbe stato il mio futuro. Mi faceva nome di persone che nessuno mai poteva conoscere. Così iniziai ad affidarmi a lei. Lei mi disse che c'erano delle fatture in corso su di me. E mi disse che per liberarmi da queste fatture ci volivano dei soldi. Fatto sta che lei era un continuo chiedermi soldi. Una volta per una fattura, una volta per un sortilegio, una volta per un amoleto, una volta per una polizia. Sono arrivata a dare anche 3.000 euro purché se ne andassi via. Ma niente. Non so lei come fa, ma lei prende i soldi direttamente dal mio conto corrente. Sono andata anche in mano a delle persone poco raccomandabili per avere questi soldi con interessi molto alti. Addirittura adesso ho lo sfratto di casa. Ovviamente alla mia famiglia ho paura di dire questa cosa perché so che mi giudicherebbero male. Perché mi sento una stupida ad essere entrata in questo tunnel con questa persona. So solo che ho fatto anche tante denunce, ma che non ho potuto fare niente finora. E io sono praticamente vittima sua. Non posso avere niente che lei se ne impossesse automaticamente. Sono disperata. Questa cosa mi ha portato anche in depressione. Ovviamente mi sono lasciata con quel ragazzo che adesso lui vive felice e contento con la sua compagna. La mia vita è andata praticamente rovinandosi sempre di più. Io non lo so ancora come finirà questa storia perché è una storia che ancora deve terminare. E spero che ci sia un lieto fine. Spero di avere giustizia per questa cosa. Perché sinceramente non ce la faccio più. Ormai non ho più nulla. Sono sull'astrico. A breve avrò lo sfratto. Sono in debito con tutto e con tutti. E tante volte veramente penso di fare brutti gessi. Ma poi rifletto e penso che la vita sia un dono troppo bello per sprecarla in questo modo. Faccio questo video per dire non vi affidate a persone ciarlatane. A persone che sono disposte per soldi a farvi credere di tutto e di più. Buona vita. Cara amica, come sai quando ci sono questi video, io alla fine faccio sempre un piccolo video di quello che è il mio pensiero. Però quello che mi sovviene è che tu hai mai visto questa cartomante? Io ho un piccolo dubbio perché io a volte sono malo pensato, no? E se invece è una persona che ti conosce benissimo? Sai come si dice a Napoli? Chi te sapo, ta rapo. E se fosse invece una tua amica, un tuo amico, non ti voglio mettere dei dubbi assolutamente su questa cosa. Ma quando vai a denunciare, non si può risalire all'IP di questa persona che ti ha mandato le mail in qualche modo? Io non so lei come ti contatta, se hai un numero di telefono, se hai un qualsiasi modo per riuscire a sanare questa persona. Ovviamente io ti direi la prima cosa, chiudi il conto corrente, aprine un altro. Parla innanzitutto con la tua famiglia perché non puoi stare in questa problematica da sola, perché non sei né la prima né l'ultima persona. Ci sono persone che aiutano altre persone tramite la magia, ognuno può essere libero di crederci, assolutamente. Però ci sono tante persone che sono veramente brave, non lo fanno a scopro di luco perché hanno un dono. E questo lo fanno proliferare proprio per aiutare le persone. Ma come in tutte le cose che io dico sempre, c'è sta un buono e un malamento. Quindi prima cosa, parla con la tua famiglia e fatti aiutare. Seconda cosa, purtroppo non sei stupida, sei stata ingenua perché magari in un momento debole, un momento fragile, queste sono le persone di cui loro cercano sempre di circondarsi, di persone bisognose che hanno dei problemi, perché in quel momento sono vulnerabili e credono a tutto. Quindi, seconda cosa, chiudi qualsiasi conto corrente. Cioè vai a denunciare a una polizia postale, io non lo so come funziona, parla con un avvocato, parla con un legale, però ci sono anche gli avvocati dei CAF gratuiti che ti possono dare un consiglio su questa cosa perché veramente è inaccettabile quello che tu stai passando. Quindi io ti consiglio vivamente di non fare mai più brutti pensieri, assolutamente. Non permettere a una persona di rovinarti la vita. Già lei ha fatto troppo nella tua vita, già ha fatto troppo. Non permettergli un altro giorno di fare altrettanto. Quindi fatti aiutare, chiedi aiuto e fai mente locale su chi è una persona che tu hai detto ti ha fatto dei nomi che solo tu conoscevi, delle situazioni che solo tu conoscevi, ma probabilmente le conosceva anche qualcun altro. Quindi fai un attimo mente locale e ragiona, perché forse non sei stata lucida in tutto questo periodo, da capire chi è la persona che può conoscere questi dettagli. A volte le persone per soldi sono disposte a fare di tutto. Ti auguro di vero cuore che tu possa uscire da questa situazione, veramente, e riprendere in mano la tua vita. Ti do un bacio grande e buona vita.